Vitri Frigo Arena presenta i prossimi spettacoli e concerti Domenica 16 ottobre, Marco Mengoni in Mengoni Live 2022 Sabato 26 novembre, Max Fezzali in Max 30 nei Palace Port Venerdì 9 dicembre, Salmo con il suo Flop Tour 2022 Giovedì 23 febbraio, Imaneskin con Loud Kids Tour E sabato 15 aprile, Checco Zalone in amore più IVA Tutte le info su www.vitrifridoarena.it